Scrivele sopra, va, per mettere data di scadenza. Eh, lo puoi modificare, quello lo puoi modificare. Ciao Miraslav. Ciao, senti un po', domanda. M'han detto quella delle leggende. Io non ho fatto giocare nessuno. No, però... Io gli ho detto che ho visto che lui ha giocato con cosa? Con boh ma. Con boh ma. Però, non so cosa succede. Vedete, mette d'accordo se rigiocarla, ma comunque pagate la multa. Tutte e due? La multa in teoria va a chi ha sbagliato, cioè se vuoi concordare su chi farla andare insieme. Ah, ok. Ok, la multa la colla te, ma collo io perché... Vabbè, tanto sarebbe una perché c'era la pioggia e una perché c'era un buon anno. E perciò, alla fine ve ne piate una per uno. Questa è la pioggia di Mbomai e la sesta. Che ha detto te? Quella della pioggia e quella di Mbomai, la stessa. Ah, stessa partita. Certo. Questa è la pioggia. Eh, ma fatti già l'ho sentito strappare. Vabbè, quello dei neaci o non è? era marvagio di sinistro, tirato qua la pigna sotto l'incrucio. Ehm, guardei il fatto. Oh! Ma mi ha buttato fuori da parte! Eh beh, pare che si eh! Eh, mi ha buttato fuori da parte questa affavorazione! Cazzo la maglia di merda, la maglia di merda! Eh, neanche io non ce l'ho accolto. Che vuoi fare? No, per te!